musica cari amici e benvenuti in questa nuova puntata di minecraft eccoci tornati sulla più trollosa delle mappe stiamo parlando di simile cosmo eccoci tornati nella decima puntata di questa cattivissima mappa siamo qui tra questa specie di mondo ghiacciato e l'inferno vario pinto di baby the mouse che si è finito la torta con il morso della lava chi? 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 come è che vada a sopravvivere? dovesse già essere in acqua che cammina sulla lava in realtà ci cade dentro come tutte le altre persone giustamente ancora mi faccio un tubo ti stavi divertendo nella lava non lo so anticipare proprio spontaneamente oppure ti piace il vuoto cosa ti piace più? mi piaci tu nel vuoto no no io nel vuoto non ci sto vuota 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 ops qualcun altro dai nel vuoto bene questo è il tipico inizio di semi del cosmos tanti baci abbracci da dei teneri fidanzati come siamo noi e ora pronto per andare avanti mi metterò le forbici in tutti i panini malefica odiosamente cattiva dove stai guardando? ti vedevo con la testa girata al laterale ciao brava tu sei già lì e io arrivo non usare non usare non usare vai via ecco proprio certi che è meglio ok ci siamo attenta la lava però dai mi piace la colpa non l'ho saltata si ma hai rischiato di andare sotto è peggio dopo è peggio dopo dai no torna qua dai ok tre qua perchè sennò non ce la faremo mai uh che bello guarda olio di palma bollente è tossico quello di palma quello delle arterie lo sai eh sì quello bollente credo che sia anche un po' più di tossico credo che è anche un po' stiolante eh ecco e che bello quanta che brucia di stomaco chi vuole venire a fare una bellissima vacanza ecco voi cartolina dalle isole e laviche laviche e chi ci va ci torna abbronzato uff l'ho fatta la prima eh mammi ti pizza qua però no non è giusto ma piccino no ora vedo perchè se muore non è che posso ogni volta rifarmela tutto e non muore si rivede com'è che tu l'hai fatta subito tranqui tranqui cos'è sta storia eh ma perchè perchè a forse di nuotare la lava sono diventata empatica con la lava mi ha fatto passare ah sì e questa sto saletto è cattivo ma quanto l'ultimo l'ultimo è più cattivo no 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 vai via vai via hai tante cose da fare ecco oh piove non ci credo piove sulla lava bellissimo warning non si torna indietro io ci passerò la vita qui dentro ah ecco perchè pioveva perchè in realtà devo beneficare aspetta che postaccio è guarda che bello no guarda che stavo per dire guardate che bella e non si vede più no ora si vede e non la vedo andata via ecco la vedo che bella che è sulla sulla visuale da lontana no no andare via senza di me che poi mi perdo no andiamo dove si va ma cos'è sto posto posto cattivo uh mi piace comunque a me no per niente dove devo andare non capisco aspetta qui si saletta perchè ho saltato ho saltato ho saltato malissimo no 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 torna qui dove dovevi dire andate salta boh mi sembra che sia eh ma ogni tanto si vede ogni tanto ogni tanto mi rallenta non lo so va a caso andiamo blindness ho solo momenti non so perchè ora non ce l'ho dove si deve andare di qua e poi ok ci siamo ehi hai trovato il piccone il piccone no che piccone hai la testa chi mi ha la testa dura potremmo usare te basta no e mi hai buttato da capo magari bisogna andare da capo ci siamo persi un piccone appunto magari è meglio andare da capo aspetta va che no è buio porta porta una bici in fiamme dove sei sono qui dentro dove è qui dentro c'è un chest eccolo qua usalo per concludere il livello ma io non ti trovo più no o è la fine comunque questa cosa qua che un po' si vede un po' non si vede si vede che sta bici non brucia abbastanza bene attenzione attenzione c'è una chile asperduta ripeto una chile asperduta attenta ah sei tu pensavo fosse lo slender woman ma non è ma attenta basta ti sei morto a 2 metri con il papiglione e con la faccia tutta bianca fa vedere allora il papiglione ce l'ha in testa ma penso più o meno che possa andare bene lo stesso ma no no veramente no ok attenta no ce l'ha arrivata visto che alla fine ridividi ce la fai bene abbiamo e non è ma e non è finita c'è ancora l'ultimo parkour e andiamo si spera ma mando te ne va a scoprire mincaaaaa è l'ultimo salto dimmi che lo sprawокpoint è qua perchè sennò e' inverosimile mi 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 mě dove sei e' qua ahhhh vado anche io non... ora lancio per sbaglio con Cuju questo no ed e' la fine no non riusciremo mai più non riusciremo a usare saremo costretti a fare questo come la nostra pena infernale si mi mi tutto di corsa anche io hai fatto esattamente questo È impossibile l'ultimo salto Non va abbastanza in fretta Allora, si riesce a fare in fretta Tutti, ok, finito di più Ora già va meglio Ora già se la si fa la prima, guarda Eh? Eh, che prima Eh, prima Eh, sono in prima, mi bocciano sempre Poverino No, voglio andare lì in dottopadena In cosa sono caduta S'è andata un po' troppo lì indietro Succede anche questo Ecco, esatto Comunque il mondo dal basso ha il suo fascino A me non dispiace Dovevo andare a vivere nel basso Secondo me facciamo bene a morire spesso Per guardare il mondo da un'altra prospettiva Esatto Per me dovrei cercare Io lo facciamo apposta per farvi vedere la mappa Certo Anche se a volte mi dimentico di guardare in alto Allora, aspetta Secondo me devo saltare prima No, no Non così Cosa vai dopo? Per me bisogna farlo con calma forse Allora, fino all'ultimo ci si arriva anche Però poi alla fine Tutto di corsa non si riesce a fare Ma come fai a prenderla in corsa da lì? Eh, no Allora, ok Mi fermo lì e mi fermo Dai, riproviamo da quello Anzi, faccio in F1 Così non riesco neanche a vedere dove metti i piedi Oh C'è l'ho fatta Tutto di corsa? Sì Davvero? Sì Così non vedo neanche cosa sto facendo Così non vedo neanche cosa sto facendo Ma è mica un gioco di vado dall'alto Questo universo Prendendo il diamante universale Siamo trasportati nuovo alla mansion E abbiamo preso ben otto dei nove diamanti universali E come potete vedere è una chestplate che stiamo craftando Ci verrà una bellissima camicetta E dovrebbe essere un gattino invece Nessa la testa e le orecchiette Eh, ah, sì Io ci vedo, io ci vedo un'armatura Un, e Kira ci vedo un gattino Che cosa ci vedete voi? E in base alla vostra risposta Vedremo se avete un buono di tre mesi Per venire nel nostro centro psichiatra Che te ne ho? Ah, potrebbe anche se più A seconda la risposta dovrebbe essere più di tre mesi Eh, dipende, ecco Sbizzarritemi Grazie a tutti Per essere stati con noi In questa nuova puntata Ma una spoileratina no? No perché non ho neanche idea Dove sia il portale Quindi passeremo metà del tempo a trovarlo Ah, peccato Grazie a tutti Per essere stati con noi Vi aspettiamo nella quella Che potrebbe essere l'ultima puntata A meno che non sia un universo assurdo Pieno di boss Di birch boss Di aerobin boss Di boss Fai da te E di manicomi Grazie a tutti Alla prossima Che ho Niente Ciao Ciao Ti ho detto che ti abbronzavi a stare in quel posto Guarda questa rossa Lenti si è messa la crema Guarda che si mette la crema Poi ti addormenti all'improvviso No è una rossa di vergogna Per commentarti le birch No Ci siamo uccisi contemporaneamente Non posso Completamente a caso A pugnetti Questo è una cosa in vero simile Complimenti Complimenti Ora stringiamoci la mano A pugnetti 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 Allora